In primo piano Il Piemonte è la prima regione italiana a dotarsi di una legge sulla pubblicazione e il riuso dei dati dell'amministrazione pubblica, i cosiddetti open data. Il testo è stato approvato all'unanimità dei votanti nella seduta del 20 dicembre. Con questa definizione si fa riferimento a una filosofia che è al tempo stesso una pratica. Essa implica che alcune tipologie di dati siano liberamente accessibili a tutti, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione. La regione Piemonte è all'avanguardia a livello europeo con l'accesso a tutti gli atti della regione e di tutte le società enti regionali. Con l'open data, che vuol dire semplicemente che i documenti sono di proprietà dei cittadini che attraverso internet li possono consultare e riutilizzare. Una rivoluzione dai risultati straordinari che si vedrà nel tempo, nei mesi, negli anni che passeranno. La prima commissione in sede referente, poche settimane or sono, ha preso in considerazione questa proposta di legge che è stata proposta dal collega Placido. Noi condividiamo, così come tutta la commissione. Si tratta di rendere disponibili da chiunque ne abbia necessità tutti i dati che negli anni la regione, le statistiche, ovviamente i dati statistici che la regione ha accumulato in questi anni. Siccome sono dati raccolti con grande serietà e costantemente aggiornati, crediamo che possano tornare utili per chiunque, qualsiasi cittadino, anche per fini commerciali.